Luigi Gallo oggi ha iniziato il tour del Movimento 5 Stelle nelle università italiane per lanciare questo vero e proprio grido d'allarme per l'aumento delle tasse che ha raggiunto livelli insostenibili. Sì, oramai siamo in basso alle classifiche sul diritto allo studio a livello europeo e il Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta di legge nel 2013, l'ha discusso nelle commissioni competenti ma alla fine c'è stato lo stop del governo. Rilanciamo l'iniziativa per una no taxaria per gli studenti e una riduzione dei tassi universitari per tutti perché prima c'era un limite del 20% e adesso non c'è più. Dito allo studio che poi in Campania è ulteriormente aggravato? È aggravato perché nella gestione Caldoro non sono state date le borse di studio, neanche le risorse quelle che il governo ha stanziato verso le regioni. Questa riforma penalizza in modo enorme gli studenti perché anche se uno studente vince una borsa di studio poi dovrà essere rendicontata per l'anno successivo? Sì, c'è il problema dell'ISE e delle dichiarazioni che stanno sollevando tutte le associazioni studentesche perché in pratica ci sono delle anomalie sia nella rendicontazione delle proprietà sia nella rendicontazione di borse di studio, pensioni che vanno assolutamente risolte. Abbiamo portato con Movimento 5 Stelle una proposta in commissione e adesso si sta discutendo insieme al PD.